Buonasera a tutti, siamo un avvocato Cerchiara, noi già ci conosciamo, l'argomento di cui vorremmo parlare stasera oggi è il 21 aprile, festa della nascita di Roma, uno dei più grandi momenti della storia dell'umanità, non a caso completamente dimenticato. Diciamo che noi, proprio perché, no io vorrei parlare di un altro argomento che è molto meno interessante, che è molto meno avvincente, che è quello della, diciamo perché è l'ultimo giorno della rottamazione e lì si potrebbero dare tanti consigli anche perché io l'ho fatto, ne ho preparato. Ma guarda che molti non sanno che cosa significa rottamazione per cui è bene che tu chiarisca come stanno le cose. Cos'è, cosa si intende per rottamazione? È l'ultimo giorno, io non volevo parlare di questo argomento perché tanto io se posso anche chiarire, speriamo che riaprano i termini come spero, perché ormai non c'è più tempo, quindi lasciamo stare con il argomento e parliamo invece sempre della questione dei migranti perché c'è stato anche oggi, ieri, un ulteriore attentato a Parigi. Quindi io rileggo quella lettera che ho scritto al New Scientist, il quale ha pubblicato un pochino meno di un anno fa un articolo in cui ha parlato dell'immigrazione e ha detto tutte cose positive sull'immigrazione, ha enumerato tutti gli aspetti da esaminare. Esamoneandolo uno per uno, ogni volta che ha dovuto trovare una soluzione, ha detto che l'immigrazione per tutta una serie di ragioni è un fatto positivo perché non produce criminalità, perché praticamente fa aumentare il benessere dei cittadini, degli stati che ricevono, fa aumentare l'economia, è un fatto ciclico che si ripete sempre. Allora io non d'accordo con questo principio, ho scritto questa lettera che è stata scritta in inglese, però è stata inviata in inglese, io ve la leggo in italiano. Allora, sono un fedele lottore della vostra rivista ma sono molto dispiaciuto che il vostro articolo sulle migrazioni, aprile 2016, sia del tutto imparziale. L'articolo presenta la situazione della migrazione soltanto sul suo lato positivo, senza alcuna considerazione degli aspetti negativi che sono di gran lunga più sussistenti. Secondo me sono quasi tutti negativi, alcuni sono anche positivi. Ma c'è una sentenza della Corte Europea che dice che dal punto di vista dell'immigrazione ogni Stato può e deve decidere come vuole. Ma ha fatto un'Ungheria, nessuno tranne un cittadino ungherese può decidere che entra in Ungheria. Dal che si deduce che se c'è tutta questa immigrazione in Italia, vuol dire che sono gli italiani che lo vogliono o per loro il governo da loro votato, perché comunque l'attuale governo dice di essere frutto del voto degli italiani. Se gli italiani vogliono farsi velicare le chiappe da qualcuno, lo facessero. Io prima o poi rinuncerò alla nazionalità italiana. Se l'ostilità agli immigranti è un errore, non cercare le cause dell'immigrazione è molto peggio. I gruppi finanziari internazionali sono interessati nell'immigrazione al fine di annichidire il benessere sociale e i diritti sociali dei lavoratori e far diminuire i salari. Gli organi della comunità europea avallano tale ingiusta politica. Inoltre l'immigrazione distorce l'identità sia dei popoli che delle nazioni ed induce ad atti di terrorismo. Le precedenti immigrazioni non erano così rilevanti come numero, mentre adesso la questione riguarda quasi un intero continente. C'è da chiedersi come si sia organizzata la questione fino al punto di tutte queste migliaia e migliaia di persone che arrivano. Perché noi le vediamo, io non ci credo perché queste sono tutte balle, sono tutte filmati fasulli, costruiti a tavolino, in sala di posa. No, no, ma che è tutto costruito in sala di posa. Ma hai visto quello che è successo che facevano vedere una flotta americana che era diretta verso la Corea? Non so, l'hai visto? Sì, ho visto. Ecco, per minacciare la Corea andava nella parte opposta e poi una flotta costituita da una sola nave e tre o quattro caccia torpetiniere che la seguono. Che comunque viene fatta passare per una flottiglia americana di grande pregio. Andava da tutt'altra parte. è tutto falso quello che dicono questi. Perché ce l'hanno con Trump. Questa è un'operazione che è ambivalente, però è dedicata sulla... Però torniamo qui. No, 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 è importante che diciamo queste cose che le diciamo ai nostri amici. Allora, perché noi di fronte agli avvenimenti, no? Siamo dominati da queste immagini. Ti ricordi le immagini di Timisoara quando dissero che Cesausisco aveva massacrato la folla che tumultuava nella piazza di Timisoara? Non è vera, assolutamente vera. Purtroppo i mezzi di informazione si sa che sono spesso. No, no, ma purtroppo la realtà è questa. Noi viviamo a sommersi da questa cosa. Quando a un momento volevano attaccare Gheddafi facevano vedere delle scene di seppellimento, di morti naturali. Dicevano che erano morti, che erano stati uccisi da Gheddafi, eccetera. Oggi è bene che cominciamo a chiedere come fanno a raggruppare tutta sta gente. Da dove vengono? No, c'è Frontex che è praticamente un organismo europeo e quindi è particolarmente indicato per essere neutrale e qua l'ha dimostrato proprio che questi vengono aspettati, che c'è proprio un'organizzazione. Esatto. Ma da dove vengono? Come fanno a raggruppare tutta sta gente? Tu immagina un'entità. C'è un'organizzazione. Un momento. Allora, uno che parte dal Congo, se mi permetti, deve fare svariate migliaia di chilometri. Uno fa a piedi, a cavallo di cammello, in camion. Se diciamo che sono pilotate, diciamo tutto. E' più che pilotate. Questa è tratta degli schiavi, si chiama. Sì, io dico il termine pilotato. Sì, tratta degli schiavi. Diciamo che loro ti dicono che no, queste persone noi le portiamo nei paesi più civili e quindi gli diamo migliori le condizioni. In realtà fanno peggiorare le condizioni. Ma anche gli schiavi dell'Ottocento che andavano negli Stati Uniti, che venivano chiamati i paesi più civili, andavano lì a fare dei lavori che non erano quelli che loro si aspettavano. Però l'America, ti immagini, non era più civile del selvaggio negro che stava in mezzo alla foresta? Ma poi erano, perché questa è la tesi maggiore del New Scientist, erano praticamente immigrazioni che riguardavano dei singoli elementi, delle famiglie. Qui si tratta... Beh, sono stati circa 50 milioni di negri che sono stati portati in America. Sì, ma in un periodo di tempo lunghissimo. Perché le navi erano più lente. In una fase in cui la stessa popolazione dell'America era molto bassa. in una fase di espansione della vita sociale ed economica. E quindi, mentre oggi no, la vita sociale ed economica è già in difficoltà per coloro che vivono nei paesi civili. Esattamente. In estrema difficoltà. Esattamente. Perché noi stiamo perdendo i diritti. Quindi portiamo delle persone nelle nostre nazioni e non abbiamo più i diritti noi e non li diamo neppure a loro. Esattamente, quello è il punto essenziale. Quindi proseguiamo. Le precedenti immigrazioni, perché questo è il punto su cui insiste molto New Scientist, non erano così rilevanti come il numero. Questo lo dico io. Mentre adesso la questione riguarda quasi l'intero continente. Inoltre operavano in un contesto di non crisi economica e sociale. Realmente l'immigrazione permette lo sfruttamento degli immigranti e l'abbassamento delle condizioni dei cittadini, delle nazioni che ospitano i migranti, causando conflitti civili. Più gente al lavoro, come dice erroneamente il New Scientist, non crea espansione dell'economia se questi immigrati sono sfruttati. Crea diminuzione dei posti di lavoro. Crea diminuzione della tutela di lavoro. Naturalmente il fenomeno è legato alla globalizzazione e anche quello è collegato, perché si sta riuscendo a capire che la globalizzazione non deve colpire i paesi civili. Come giustamente ha detto l'esperto di economia che scrive su Repubblica, il dottor Rampini, praticamente le elite ci hanno fatto credere che la globalizzazione ci sarebbe fatto stare meglio, che invece ci ha fatto stare molto peggio, che praticamente l'immigrazione avrebbe portato un benessere e invece ci fa stare a tutti male. Quindi ci hanno tradito, infatti il suo libro ha detto che è il tradimento di questa elite. Mi voglio soffermare anche in questo, su una considerazione importantissima. Tu stesso hai detto che Federico Rampini, che comunque è dei loro, ha pensato bene di cominciare a modificare... Abbiamo questa distinzione tra loro e noi. Io faccio una considerazione su quello che le persone dicono. Si, però dipende da dove scrivono e quello che hanno sempre scritto. E quello intanto ha scritto la verità. Come noi siamo nati ieri. Sappiamo che è Federico Rampini, è uno dei più liberi tra loro. È uno dei più liberi, ma è dei loro. Intanto ha il coraggio di rinunciare. Esattamente, può farlo perché è un grande giornalista. Ma è mai detto niente. Allora, non a caso lui stesso ha usato la parola elite. Ora, voglio ricordare che questa parola è entrata nell'uso corrente negli ultimi mesi. Mentre noi delle elite parlavamo circa 50 anni fa. L'elite per elite si intende potere economico, finanziario, usuraio. Va bene, sono l'elite, sono un piccolo gruppo di persone. Noi li parlavamo così. Per loro no, per loro andava tutto bene. L'usura era una prassi perfettamente naturale e normale. Lui ha scritto anche un libro sull'usura bancaria. Lo so bene. Allora, andiamo avanti. Non è vero che l'immigrazione è un fenomeno, inoltre, che non si può arrestare, come molte nazioni hanno rimborsato. No, lo fermi, perché adesso, se la Le Pen vince le elezioni, provoca le immediazioni. Praticamente il ministro della difesa francese, Cassavette mi pare che si chiama, ha detto, dice, ma questa espressione della Le Pen è sbagliata perché le frontiere sono già chiuse. Non è vero. Le frontiere non sono completamente chiusi, perché c'è comunque l'applicazione delle norme di Schengen comunitarie. Adesso, comunque, la... Alle norme si può fare tranquillamente a meno. Ma parte a meno, ma poi questo dimostra che praticamente le nazioni, quando vogliono, della comunità europea, quando vogliono non rispettare le norme, non le rispettano. L'ha fatto l'Inghilterra, l'ha fatto la Germania, l'ha fatto la... Gli unici politici che praticamente non hanno mai non rispettato le norme, perché questo avrebbe aiutato veramente i cittadini italiani, e non si sono impuntati, sono stati i politici italiani. Certamente. Perché praticamente loro hanno sempre detto sì e hanno cercato di lavorare sulla piccola percentuale di... 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 mica hanno detto, come ha fatto la Francia, mica hanno difeso sotto sotto o i confini o le proprie nazioni. L'Inghilterra ha chiesto l'impossibile per non andare in Europa. Gli è stato concesso tutto. Perché gli italiani, i politici italiani, non hanno chiesto nulla? E lo sappiamo bene. E si sono limitati a dire... Lì, quando andavano praticamente alle riunioni comunitarie, hanno detto sì. Poi quando venivano qui dicono Ah, non è giusto che l'Europa... No! Bisogna andare come organi della comunità europea e dire agli altri organi Guardate che se voi intaccate ancora certe regole che riguardano la vita sociale italiana, il suo ordinamento giuridico, i diritti dei lavoratori, eccetera, eccetera, qui noi non usciamo fuori dalla comunità europea. Noi non rispettiamo più le regole e voglio vedere voi che ci fate. Che cosa hanno fatto con la Germania e la Francia? Che cosa hanno fatto l'Inghilterra? Ma perché? Noi pensiamo che solo perché questi paesi, perché hanno magari più potenza di noi, gli verrebbe consentito a noi? No, no. Ci viene consentito anche a noi. Perché ci sono 3-4 paesi che contano per la comunità europea. Poi non dico che non conta la Svezia o la Danimata, per carità. Ma c'è anche la Spagna, ad esempio. Perché nessuno va a rompere i coglioni alla Spagna? Esatto. Allora terminiamo qui. Perché questo poi c'è questo argomento, non possiamo farla troppo per lunga. Il primo ministro inglese che cosa ha detto? Ci ha insegnato, come va visto la frase. Ha indicato che non possiamo assolutamente difendere le imprese che pagano meno il lavoro degli immigranti. Al contrario, dobbiamo difendere i cittadini che vogliono preservare i diritti di lavoro. e ha detto che gli aziende inglesi prima impiegate lavoratori inglesi e poi si penserà al resto. E così devono fare tutte le nazioni. Perché solo una nazione può garantire il diritto e il rispetto di determinate regole giuridiche che si sono conquistate dopo secoli. mentre che con la scusa della globalizzazione e di un ente sovranazionale che cosa fanno le élite? Eliminano la sovranità e il potere che hanno le nazioni per poter sostituirlo con delle regole che non sono a favore dei cittadini ma sono a favore dell'elite finanziaria globale. Andiamo avanti. Voglio ricordare, voglio dire ai nostri amici che questi temi che tu hai trattato sono stati trattati a lungo tempo, per anni e anni da un autore francese che si chiamava Henri Costant e questo Henri Costant aveva una rivista estremamente interessante che io leggevo, parlo degli anni 60 e che ha scritto un libro formidabile che non è mai ovviamente stato tradotto in italiano e che è intitolato Le finanzie che menne le monde cioè i finanzieri che comandano il mondo è stato pubblicato in Francia nel 1960 sono passati 55 anni meglio 57 anni e tutte quelle cose che sono state scritte sono state ovviamente realizzate è un libro del 55 esattamente Le finanzie che menne le monde le librerie française esatto e poi è stato Re di te e c'è lui Stré par Chard che era un'altra casa dei dici nell'89 quindi è ancora acquistabile questo libro della libreria francese che è del 55 e il titolo italiano tradotto è i finanzieri governano il mondo che governano chi menne allora torniamo a quello che ha detto la mail ha detto dobbiamo difendere i cittadini che vogliono preservare i diritti di lavoro in questa maniera noi difendiamo la nostra civiltà prima ancora della nostra nazione le imprese devono impiegare i lavoratori inglesi ha criticato politici e opinionisti che trattano il patriottismo come un fatto disguttoso e non qualcosa che serva a tutti perché poi le nazioni possono accordarci mica devono per forza fare la guerra sembra che la guerra si può eliminare solo se un ente che non è democratico come una comunità europea possa gestire gli assetti finanziari, economico, sociali, lavorativi di tutti gli stati membri senza democrazia e no esattamente allora chi è sovranista praticamente è uno che non vuole il futuro no il sovranista vuole una gestione migliore del futuro per cui gestisce le cose interne e poi fa le collaborazioni internazionali a più ampio grado ha criticato i politici e gli opinionisti da lei perché ha detto che questi opinionisti vedono l'allarme per l'immigrazione come un atteggiamento provinciale la richiesta di sicurezza sul lavoro è una cosa fastidiosa la paura della criminalità come qualcosa di illiberale e invece no sono tutti sentimenti noi dobbiamo cambiare tale modo di percezione della realtà intorno a noi perché la realtà la dobbiamo pure comprendere noi non possiamo considerare l'evento immigrazione come nell'articolo del New Scientist purtroppo piuttosto fa senza comprendere ciò che le istituzioni finanziarie intendono perseguire questa lettera è del 12 marzo io vi lascerei qui sulla questione dell'immigrazione è una cosa in cui credo molto e sono costretto a ricordare l'articolo di Oriana Fallaci che pubblicò sul Corriere della Sera e purtroppo in questo momento mi sfugge il nome che però si può trovare che si può trovare su internet e dice proprio quello che che bisognerebbe fare rispetto all'islamismo non è che non vanno aiutati gli immigrati vanno aiutati ma nella maniera giusta non è che l'islamismo va attaccato assolutamente no come ha fatto il Papa Ratzinger a suo tempo che partì con una offesa gravissima nei confronti dell'islam vabbè comunque lasciamo di stare queste cose poi ci sono anche delle opinioni personali non ci voglio entrare la rabbia e l'orgoglio ecco questo è un articolo quindi andatevelo a cercare Oriana Fallaci la rabbia e l'orgoglio tu non puoi considerare un amico una persona che nel Corano c'è stato scritto inutile che loro lo negano che bisogna eliminare le persone che non hanno quella fedeltà che loro ritengono sia corretta quindi bisogna rispettarli nel senso talmente tanto che devono stare per conto loro ora siccome si sono create delle civiltà in cui gli islamici sono entrati nelle nostre nazioni non è che si può eliminarli però bisogna fare quell'operazione che dice la Le Pen di controllo di schedatura e chi si aspetta deve essere mandato via ma mandato veramente perché in Italia ci sono svariate migliaia di individui che hanno avuto il foglio di via e sono guardate bene da darsene e soprattutto e soprattutto bisogna fare una cosa non devono entrare più le due civiltà devono rimanere collegate collaborative devono rimanere anche non dico affettuosamente amorosamente collegate ma distinte e staccate perché questo è giusto che sia così e questo bisogna capire invece la maggior parte delle persone che cosa vuole? vuole che tutti stiano insieme c'è se non c'è un giro di soldi pazzesco, pauroso e sappiamo perfettamente chi li gestisce dopodiché dobbiamo chiudere abbiamo fatto una sera a tutti buon fine settimana ricordiamo ricordiamo che è stato un degrado continuativo da da Monti Aletta a Renzi e finalmente al Conte Gentiloni è stato un peggioramento continuativo a rivederci a tutti una sera buona festa no le feste sono passate ma lei perché c'è ingegnere lei